Sentirsi una regina indossando un abito speciale, vestire con eleganza per festeggiare i propri 18 anni o essere chic ad una cerimonia. Rocco Crescenzo ci mostra alcuni dei tanti abiti che è possibile trovare nella sua boutique Rocco Donna di Via Nuova Lavorati a Sarno, dunque non solo sposa. Per le clienti della boutique Rocco Donna abiti dalla taglia 38 alla 64 e per chi lo desidera anche vestiti su misura. Ed ora ci spostiamo alla boutique Rocco Uomo, da Massimiliano non solo abiti, sposo e da cerimonia. Abbiamo a disposizione non solo l'abito da sera ma abbiamo anche a disposizione l'abito da giorno. Una cosa importante è chiarire che noi abbiamo anche servizi su misura, quindi partendo dalla taglia 44 riusciamo ad arrivare anche alla taglia 72. A nostra disposizione, in un numero molto svariato di tessuti e colori, abbiamo anche tante vestibilità. Infatti riusciamo a vestire tutte le stature sia per l'altezza sia per la conformazione della pancia o delle spalle. In quanto abbiamo a disposizione i cosiddetti drop che vestono un po' tutte le fasce. Oltre all'abito da cerimonia classico abbiamo inoltre l'abito giovane, l'abito indirizzato al ragazzo che eventualmente deve fare la festa di 18 anni, deve fare la festa a scuola oppure giustamente deve partecipare a un matrimonio ma vuole vestirsi senza troppo distaccarsi da quello che è l'abbigliamento di tutti i giorni. Per quanto riguarda gli accessori noi abbiamo a disposizione camicie, cravate, cinture e scarpe. Tengo a precisare che per quanto riguarda le scarpe abbiamo a disposizione anche una vasta gamma di prodotti, anche artigianali, che si possono fare su misura. Ed eccoci da Rocco Junior e Carmine a dedicarsi al look dei più piccoli. Ad accogliere i clienti, cortesia e sattoria, competenza e convenienza, qualità e praticità. Il punto di vista negli anni per Rocco Junior non è mai mutato. Valutare il prodotto non per la sua griffo ma soprattutto per la sua qualità, per la sua ricercatezza e per la sua attenzione alle esigenze dei clienti. Ed ecco dunque che è possibile acquistare da Rocco Junior vestiti su misura, senza limiti di taglie, unici, senza limiti di personalizzazioni, naturali, solo 100% seta, cotone, lino, italiani in ogni fase di produzione, sartoriali con rifiniture di pregio. Ed eccoci da Rocco Junior